Abbiamo purtroppo riscontrato un aumento, un aumento anche abbastanza significativo, dal 2019 per esempio le donne che mettevamo in protezione erano 28, quest'anno sono 39. Abbiamo avuto 243 donne che hanno chiesto un ascolto, un intervento da parte nostra, di queste più del 50% sono nuove. Negli ultimi quattro anni si è registrato un aumento costante come testimoniano i dati raccolti dal centro antiviolenza del comune di Venezia dove oggi in occasione della festa della donna simbolicamente si è recato l'assessore Venturini confermando l'impegno per rafforzare i servizi sul territorio. Due nuovi sportelli che il comune ha aperto negli scorsi anni per andare incontro alle donne vittime di violenza e ascoltarle nei territori e due nuovi appartamenti che metteremo a disposizione per le donne vittime di violenza e i loro figli per una pronta emergenza in caso appunto di situazione di violenza. L'equip del centro è formata da assistenti sociali, educatrici, psicologi e consulenti legali oltre che dipendenti del comune e operatrici. Noi offriamo sia supporto psicologico sia supporto all'inserimento lavorativo, all'orientamento giuridico legale quindi per avere delle consulenze anche dal punto di vista giuridico legale ma soprattutto aiutiamo le donne anche a formulare dei progetti di uscita dalla violenza anche nel campo dell'abitare o del supporto ai figli e alla genitorialità. Il nostro centro gestisce anche due case rifugio. Il centro offre un servizio di supporto psicologico che è un percorso di dieci sedute di solito e anche la possibilità di avere una consulenza legale con un avvocato penale o un avvocato civile a seconda di quelle che sono le esigenze della donna nello specifico. C'è anche uno sportello lavoro per aiutare le donne magari a costruirsi un curriculum a capire come possono ripartire per riguadagnare l'indipendenza economica. Il centro è aperto cinque giorni alla settimana con una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 anche nei giorni festivi e garantisce collegamenti con gli ospedali del territorio.